E quindi nel momento in cui, ripeto, ci fosse la possibilità di fare qualche altra cosa, sicuramente il trapani non si dire indietro, però ce ne deve essere la possibilità. Quindi, come ho detto prima, al momento buchi non ce ne sono e quindi stiamo lì. Anche se la società, ripeto, come ho detto prima, è vigile, il direttore sta lavorando 24 ore su 24, considerando anche che oggi è il giorno del suo compleanno, non è nemmeno qui. E quindi capirete come sta lavorando in questo momento, quindi si deve essere vigili per una situazione importante, è una parola brutta dire, per delle occasioni quasi, ma noi siamo abituati a delle belle occasioni. E quindi siamo aperti a tutto, ma allo stesso tempo ci deve essere la possibilità. Da parte della società, quindi del presidente e della signora, c'è grande disponibilità, però devono essere giocatori o situazioni che si vadano a sposare con quello che è il progetto del trapani, che non è un progetto come tutte le altre squadre che lo sapete. Ci sono giocatori che vogliono andare via? Assolutamente no, per andare via da trapani uno deve essere un deviato mentale, credo. Grazie. Grazie.